E ora vi mostriamo delle immagini molto particolari di una disciplina, la scherma, che anticamente si praticava così. Vediamo. Indossano protezioni di foggia antica e impugnano spada e scudo. Una simulazione di duello? Niente di tutto questo. Si tratta della pratica originaria di una disciplina sportiva attualissima, la scherma. È infatti la cosiddetta scherma antica o storico rinascimentale. Una suggestiva esibizione si è svolta nel contesto cinquecentesco di Palazzo della Cornia, Castiglione del Lago, nell'ambito della mostra La Via del Guerriero, dedicata a Mikhail Kulakov, artista russo profondamente legato alle arti marziali occidentali. L'evento è stato infatti promosso dall'Associazione Centri Sportivi Italiani e da Alfredo Principato, presidente italiano dell'Ordine Arti Marziali, grande amico di Kulakov. Ad esibirsi, in questo caso non in pedana, ma su un pavimento in pietra tra pareti affrescate, sono stati alcuni rappresentanti della scuola Sala d'Armi Achille Marosso di Perugia.